Una giornata di confronto tra scuola, università ed impresa. Ha infatti toccato anche Arezzo Orienta il tuo futuro, il progetto promosso dalla regione toscana e finanziato dal Fondo Sociale Europeo per dare uno strumento in più ai ragazzi degli istituti superiori per una scelta consapevole del proprio cammino universitario. L'obiettivo è quello di aiutare questi giovani a scegliere il loro percorso di studi futuro, non soltanto cercando di interpretare e di soddisfare quelli che sono i loro interessi, le loro caratteristiche ma anche di metterle a conoscenza di quelle che sono le esigenze del mondo del lavoro. Noi oggi anche in Toscana come nel resto del paese abbiamo una disoccupazione che negli ultimi anni è cresciuta in virtù della crisi e nonostante ciò abbiamo delle aziende presenti sul territorio che potrebbero assumere ma che non trovano profili professionali giuste per poter svolgere il lavoro che loro offrono. Un'iniziativa che ha coinvolto i quattro Atenei Toscani ed alcune aziende del territorio. Il percorso di orientamento e di maggiore consapevolizzazione degli studenti sull'offerta formativa delle università toscane è un percorso che dura da due anni e proseguirà anche l'anno prossimo. In tutto abbiamo coinvolto 11.000 studenti delle scuole superiori di tutte le zone della nostra regione. Oggi facciamo un incontro, abbiamo organizzato ad Arezzo un incontro per 600 ragazzi che provengono da tante parti della Toscana per farli incontrare direttamente con gli operatori dei vari settori che loro hanno scelto. Grazie.